Buongiorno, sono Alessandro Bitetto e sono un scientifico datore di Neosperience. Oggi presento il nostro lavoro sulla deteccia della cardiaca akinesi in echocardiams. La nostra analisi è concentrata sulla deteccia delle alterazioni nel movimento del muscolo del corpo e siamo interessati a una classificazione binaria tra akinetico e normokinetico. Cardiaca akinesia riferisce all'absence della deformazione del miocardium e è visibile come un lack di miocardica thickening. Questa condizione è attribuita a un numero molto grande di patologie. Una di queste, la miocarditis, ha stato descritto come una complicazione possibile dell'infecto causato dalla SARS-CoV-19 e è capace di worsere la prognosi del paziente. Per questo motivo, l'echiocardiografia di funzione della miocardica e la rapida riconoscenza di l'interazione dell'interazione è estremamente importante in la gestione clinica del paziente. Il dataset è stato provato da un hospital italiano, Luigi Sacco, in Milano, e è stato composto da quasi 700 echocardiograms. Un echocardiogram è composto da un numero diverso di film, di circa 23, fino a 291. Quindi, abbiamo scelto un numero minimo di film per essere stati, seti a 50, per essere capiti a capire almeno un ciclo full carvide. Per il risultato, abbiamo aggiunto il label akinetico o normokinetico, che è il target di un'analisi, per un totale di 200 akinetico e 480 normokinetico. Abbiamo creato un algoritmo euristico per automaticamente rimuovere le informazioni che sono imparate su ogni frame e per mantenere solo l'area che cambia nel tempo. Per il risultato di classificazione, abbiamo usato l'architectura di ResNet 34 modificata, dove abbiamo sostituito l'ultimo livello softmax con un livello sigmoido. Abbiamo anche deciso di impostare i frame di ogni clip come un canale separato di un singolo immagino. Quindi abbiamo cambiato il livello di input di 3 canali con un livello di 50 canali, prendendo solo i primi 50 frame disponibili. Abbiamo anche lavorato 4 diverse versioni del modello, utilizzando tutte le combinazioni di luce cross-entropia binaria vs. Fokker-loss e il label di target con 1 per la kinetica e 0 per la non-kinetica, vs. i label invertiti. Quando lavorato le nette, abbiamo lavorato i nostri modelli con un approccio di 5-fold stratificato. Le probabilità delle probabilità di ogni valutazione sono anche usate per aiutare il luogo secondo livello con 4 input di ogni versione del modello risultando in una stagione di modelli. Il luogo secondo livello era anche con un approccio di 5-fold stratificato, ma con una differente random seed. Come il modello staggede produce 5 probabilità da ogni modello del modello, un funzione aggregato è necessario per ottenere una sola probabilità, per essere più convertita in il label finale. Abbiamo testato 3 funzioni di aggregazione diversi, l'avere, l'media o l'avere. Al fine, il trasporto per assaggiare 0 o 1 ha stato scegliato da testare diversi valori, da 0 a 1 per una step 0.01 per tutti i fondi e maximizzare il risultato avere. F1 f1 score Finalmente, visualizzavamo la funzione di attivazione dell'ultima convoluzione prima del connesso metodo per identificare quale parte dell'immagine del network si concentrava. Abbiamo usato un approccio simile al gradcam. C'è una distinzione clare tra i due classi e, più oltre, il network si concentra su una parte significativa delle immagini. grazie per l'attenzione